Nelle mie rubriche di approfondimento politico sto cercando un po' di monitorare la realtà delle varie formazioni politiche, dei vari movimenti, dei partiti, con particolare riferimento ovviamente alla Puglia e a Taranto in particolare. Nella puntata odierna incentreremo l'attenzione sulla situazione della Lega Nord o Lega Salvini Premier, chiamatela come volete, alla luce della defenestrazione del commissario regionale Andrea Caroppo. C'è da dire che Caroppo ha avuto numerosissime contestazioni, numerose sconfitte, penso alle primarie per le comunali a Lecce, a Bari, a Foggia, in varie parti della Puglia. Si è alzato un forte malcontento a tal punto che il movimento di Salvini a livello nazionale ha dovuto prendere i provvedimenti del caso arrivando alla defenestrazione, appunto alla sostituzione di Caroppo con il commissario, il deputato Deramo. Dicevo, Caroppo, ex Fittiano, nella sua condotta politica a mio avviso si è rivelato pressoché nullo, proprio perché non è riuscito con la base a creare un rapporto molto forte. Strano che la Lega in varie parti d'Italia sfonda e invece qui in Puglia va in controtendenza. Forse Caroppo pensava di essere il primo della classe, pensava di essere l'unto del Signore, pensava di essere colui il quale, pensava di essere inamovibile. E già stava o sta continuando, non so se ancora si candiderà, alle europee. Dicevo delle sconfitte pesanti alle primarie, ma io dico che la linea Caroppo ha anche annullato la Lega a Taranto e provincia. A Taranto e provincia c'è il coordinatore della Lega Borracci, coordinatore provinciale, però di fatto la Lega a Taranto e provincia esiste solo sulla carta, esiste solo per così dire sulla cartina geografica. Ci sono pochi interventi, c'è il coordinatore cittadino Lardiello e il coordinatore provinciale Borracci, ma come iniziative la Lega fa davvero poco a Taranto. Chissà, forse è stata la linea Caroppo in Puglia che ha anche, come dire, reso invisibile la Lega a Taranto, ma forse, a mio avviso, anche a Taranto la Lega, Taranto e provincia dovrebbero rivedere le cariche e fare, come dire, forse un ripulisti. Ripeto, a me non interessa nulla della Lega, è un'analisi politica che sto facendo, come l'ho fatta anche pesantemente sul PD, sul Movimento 5 Stelle, sul Centrosinistra, su Forza Italia, ora era il momento della Lega, però balza agli occhi, è strano il fatto che mentre una Lega, un movimento che può piacere o meno a livello nazionale supera il 30%, almeno nei sondaggi, vince le regionali, in Puglia risulta quasi non pervenuta e a Taranto vive questa anomalia, ma si sa, Taranto è una città anomala e anche la Lega lo ha sperimentato. Senza bavaglio, informazione libera, sempre!